Musica Cari telespettatori ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione prevista per giovedì 17 maggio. L'impulso freddo giunto la sera precedente rinnova rovesci sparsi al mattino, anche a carattere temporalesco sulla Puglia, dove non si escludono locali grandinate. Neve sulla dorsale anche fin verso i 1300-1400 metri. Migliora gradualmente dal pomeriggio a partire dal Molise con residui rovesci o temporali sul Salento. Ed ora più nel dettaglio le previsioni per la Puglia. In Puglia al mattino nubi irregolari contemporali sulle coste e acquazzoni intermittenti in pianura. Ancora nubi irregolari e locali acquazzoni sul litorale al pomeriggio, schiarite alternati a nubi sparse nelle zone interne. Spazio adesso alla situazione di Basilicata e Molise. In Basilicata al mattino sulle coste cieli grigi con temporali anche forti e possibili grandinate. In montagna nubi irregolari con locali acquazzoni. Al pomeriggio sulle coste cieli grigi con piogge miste a sabbie africane. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. In Molise al mattino sulle coste tempo uggioso con deboli piogge. In montagna cieli nuvolosi con possibili qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna tempo prevalentemente soleggiato ma con ancora qualche nube. E infine come sempre le previsioni per temperature, venti e mari. Temperature insensibile calo con massime spesso inferiori ai 17-18 gradi. Venti anche forti di maestrale con possibili raffiche oltre gli 80-90 km orari. Mari molto mossi o agitati. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio in compagnia di programmi di Antenna Sud. Arrivederci e buon proseguimento.